amici siamo in val di cembre per funghi panoramica della selvaggia vegetazione dove mi trovo i bellissimi colori dell'autunno e adesso vedremo ho trovato gli ultimi porcini della stagione boletus edolis bellissimi eccone uno qua ce ne sono altri due ed eccone un altro bellissimo bellissima raccolta ultima raccolta di porcini boletus edolis e con queste immagini amici vi saluto ciao